cosa c'entra lo spreco alimentare con l'agricoltura poco in effetti non abbiamo più nei campi a marcire tutte quelle eccedenze che vedevamo qualche anno fa eppure lungo la filiera agroalimentare si spreca ancora tanto soprattutto nelle nostre case campo tavola 70 per cento di ciò che si getta via sta proprio a casa nostra perché gettiamo via del cibo che è un bene comune che viene prodotto degli agricoltori perché abbiamo perso il suo valore non sappiamo più che fa bene alla nostra salute che fa bene all'ambiente una buona produzione che ha un valore nutrizionale e quindi attenzione seguite la nostra campagna di comunicazione e di educazione alimentare spreco zero perché non dobbiamo buttare via nessun prodotto agricolo finisce nella spazzatura diventa un costo per la nostra società perché dobbiamo smaltire i rifiuti rispettiamo il lavoro degli agricoltori che salvaguardiano il nostro ambiente la nostra salute grazie a tutti